Un aiuto contro il colesterolo? Scegli Proattivo. L'unico mini-drink con due grammi di steroli vegetali che ti aiutano a ridurre il colesterolo. No! Ma quanto ti sono costati tutti qui, no? Zero. Quest'estate scrivere quello che vuoi costa zero. Attiva 00 Summercard per mandare sms a zero centesimi. Vodafone. Life is now. Vodafone. Qualcera. Grazie a tutti. Non sempre puoi portare con te il tuo spazzolino. Quando non puoi, c'è Dagan Proctrix. La stessa sensazione di freschezza dei denti appena lavati. Quando non c'è lo spazzolino, c'è Dagan Proctrix. Basta, Vladimir, avanti a fare un giro. Uff, è che è stata approssimativa. Come possiamo divertirci in modo intelligente? Andiamo a bruciare le formiche? Con questa canicola. Attacchiamo i barattoli alle code dei gatti? Con questa canicola. Ci eventifichiamo le buche del golf? Con questa canicola. Annoyiamoci, amici. È una don Summer Collection. Con Summer Collection ascolti la tua musica e parli gratis con tutti. L'unica con Gotham Project. E con Rihanna. Gian Pietro, spingi la luce. Risparmiare energia? Oggi si può. Montando lampade a risparmio energetico e senza sborsare un euro. Perché il servizio di installazione, uso e manutenzione si paga con il risparmio d'energia letto da questo contrarisparmio. Un mondo di luce a costo zero. Un progetto di Gian Pietro Beghelli. Informatevi da progettisti, installatori e negozi Beghelli Point. Non c'è vacanza senza spiaggia e solotto. Non c'è tanga senza pizzicotto. Fai come milioni di italiani. Chiama il 1288 per sapere hotel, ristoranti e tutto per le tue vacanze. Chiama il 1288. Nuove armonie al grano saraceno. Ricche di fibra, spesse, leggere e con un gusto speciale. Come quelle al maltodorzo e ai cereali. Armonie, la tua fetta di benessere quotidiano. Mulino Bianco, scegli un mondo genuino. Bisogna chiamare al meccanico, fai ta 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 ta. Che devo fare? E chiamare il 1254. E perché ta 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 ta? Perché quando lo chiami fai ta ta ta. Ah, ta 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 ta. Beh ma sia per questo voglio fare pure tu 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 tu. Eh no, è così occupato. 1254 di Telecom Italia. Facile, come dire ta 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 ta.